Un'immagine offensiva di una realtà che storicamente non è mai stata sottomessa a gruppi mafiosi e che anzi, nei primi anni 90, ebbe il coraggio di ribellarsi ai primi tentativi di infiltrazione malavitosa, dando vita alla prima associazione anti-racket italiana. Esplode così la protesta di un gruppo di orlandini contro un recente articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista di geopolitica Limes, che in una mappa della Sicilia, raffigurante il controllo delle cosche sul territorio isolano, mette risalto un presunto e fantomatico mandamento di Capodorlando. Rabbia portata immediatamente all'attenzione del Consiglio Comunale da Carmelo Galipò, consigliere del gruppo Insieme per Cambiare. Proprio nel giorno in cui ricordavamo il sacrificio del giudice Borsellino e della sua scorta, il noto mensile individua nella nostra città la sede di un mandamento di Cosa Nostra, scrive Galipò, chiedendo il dibattito in aula. A quanto pare la notizia è relativa a vecchi numeri della rivista, ma ha ancora ampio risalto sul sito dello stesso mensile. Si fa riferimento, aggiunge Galipò, ad una mappa dei mandamenti mafiosi siciliani, tra i quali spicca un fantomatico mandamento di Capodorlando affiliato a Cosa Nostra catanese. È risaputo che quando agli inizi degli anni 90 alcune famiglie mafiose hanno tentato di allungare i propri tentacoli verso la fiorente economia orlandina, estorcendo quanto più possibile a commercianti e imprenditori locali, Costoro si sono rifiutati di sottostare alle pretese delle suddette famiglie, creando un importante precedente nella lotta alla criminalità organizzata e opportuno, sottolineare che questi clan erano basati altrove. Al sindaco quindi viene chiesto di proporre ogni opportuna azione a tutela degli interessi della città, intimando l'immediata rettifica dell'articolo e chiedendo un risarcimento per i notevoli danni d'immagine arrecati dalla persistente diffusione della mappa sul web.